Ragazzi mi raccomando seguitemi su Instagram a OptiPfi Iscrivete al canale che siamo quasi arrivati di 330.000 iscritti E soprattutto supportatemi nello shop che faccio supporto a un creatore OptiPfi E vi ricordo di seguire anche CrazyMad sia su Instagram che sugli altri social Grazie bro! Chiaro? Bella? Allora qua vediamo un tipo che lancia un razzo Il suo amico no Rocket Riding L'hai mai fatto tu su Fortnite? Eh frati dico che l'ho fatto e E l'altro lo fa in risposta a quello Eh vabbè 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 Quindi abbiamo un altro Guarda bene ti ricordi la vecchia mappa Lo fa ballare No vabbè E muore No no Vecchio vecchio Spettacolare bro Guarda la vedi questa schermata di caricamento è bellissima no? Ok sì Guarda questa Oh oh L'hai visto L'hai visto L'hai visto Oh oh mio dio Rocket Riding finito male Finito malissimo Malissimo Sad story di chi l'ha fatto Qua vediamo due che patinano sul ghiaccio Ah uno piazza la trappola Allora lui Gli piazza la trappola sotto È finita Ma è geniale È geniale Questo È Gesù È Gesù Questo è Gesù Oh mio dio Che ignoranza Ok questo muore Girl L'altro lo vuole finire E allora lui scende giù E cosa c'è qua? Cosa c'è qua? Oh La trappola Bra Si sclera Si sclera Questo quando io gioco normalmente Ok Questo quando qualcuno mi sta guardando Ebbè 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 Che tu immagino Ok Si 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 Un po' tutti così Quando abbiamo degli spettatori Allora lui apre l'air drop Ok trova varie cose Oh uno shieldone Ok Decide di tirarselo Vabbè Ah però arriva la safe Allora prende una di quelle granate Mega impulso E quale c'era una volta E contemporaneamente un nemico Ha lanciato un impulso No Sad story Forzio Maurizio Vabbè Allora lui prende una jump Torna qua E contemporaneamente un altro Lo rimane fuori Ma che cos'è bra E lui muore E la vita di Zerbian Ok Questo wukong tira sul suo amico E inizia a correre Ma la safe Lo prende Non ce la fa più No Ha poca vita Quanti quanti ne capitano Ormai È finita Allora il suo amico Lo guarda Gli fa un ultimo saluto Bellissima Mi fa pena sta cosa Allora vediamo qua Vogliono fare un rocket ride Per la vittoria finale Vediamo un po' Ok vai Pessima cosa Sad story Pessima cosa Pessima cosa La vita Che fin No La vita l'altro Quante se ne trollano così Quante E hanno fatto 23 kill Questa squadra Per dirmi Mamma mia Un record finito a parte Esatto Qua c'è un arena Negate rider Allora uno si mette a ballare Cosa fa Allora la default Guarda bene Guarda bene Guarda bene la default Schiocca le dita Cosa What Schiocca le dita Cosa What Ma che cos'è Ma Questo C'è uno che mira Col cechino lì sopra Boh Non vede più nessuno Boh Si gira Mira più in là Non è E quindi Che cosa Ma che Oh oh Guarda questo Vecchio Questo è assurdo Questo è assurdo Lui lancia il raggio Sale sul raggio Balla Balla Esce dal raggio Usa il rift Usa questa roba qui Ha creato il rift Si attacca le ruote Gira Prende la pistola Si spara Prende questo Tira Fa il colpo Entra nel rift E fa vittoria Vecchio Non può esistere È truccato Qua cos'è C'è un hub Io questi non li vedo Dalla mappa scorsa Mamma mia Dalla season 2 C'è questo qua Si sta pure divertendo Con lui Questo l'ha messo Corso automatico E via No 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 È lui che gioca Semplicemente non sa Come rialzarsi i piedi Ma che cos'è Occi sei tu Ti detto No 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 sei tu Semmai Come sei io io Sei proprio tu invece Vabbè è finita Ok Adesso raga Vi faccio una domanda Vi faccio una domanda Ma voi lo sapete Cosa non fa Jack Gordon Crazy tu lo sai Cosa non fa Jack Gordon No Devi sapere Raga scrivetelo nei commenti Aiutiamo Crazy A capire cosa Non fa Jack Gordon Qua sono i veri fan Lo sapranno Solo i veri fan Solo i veri fan Lo scriveranno nei commenti E io gli metterò i cuori A tutti giustamente Eh Crazy tu non lo sai Cosa non fa Jack Gordon Dimmi Non posso dirtelo Devono scriverlo nei commenti E tra l'altro Avete 5 secondi Per lasciare like 5 4 3 2 1 E lui ha fatto la vittoria Bravo Let's go Allora Sono 2-5 secondi Oh Attenzione Sono le ragazze Quando ti vedono Effettivamente Questo è un canto di felicità ottio Ti ricordi gli skateboard crazy? Mamma mia fra Eh chi si riscorda Ti ricordi cosa succedeva quando uno skateboard andava contro un altro skateboard? Proprio questo What? Non mi è mai successo fra Ecco perché li hanno tolti gli skateboard dal gioco Perché succedeva I driftboard Vabbè Allora qua vediamo un nabbo Ma che cos Ah Questo è uno Questo è uno che usa gli altri codici e supporta un creatore Ho capito Questo è uno che usa gli altri codici e supporta un creatore Ho capito Guarda cosa fa Questi sono i Quelli che usano il codici e supporta un creatore Ho tpfi Guarda qua Spacca vecchio Spacca E possono fare anche di meglio Giustamente Oh 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 Ma che è oh Fra Vedi Ma che si è preso? Ma ti viene dato gli spinaci? Eh si vecchio È diventato Coccia un gbfi nello shop Questo succede Oh licetta Te la ricordi questa? Mamma mia No 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 vabbè bra Le amo queste robe Bellissimo Allora ti ricordi che a Old Town non si poteva costruire? E allora lui e un suo amico si camperano qui dentro E ci sono dei nemici che stanno cercando di entrare Ma non ce la fanno Perché loro chiudono sempre la porta No vabbè E non possono spaccare le strutture No perché non si può buildare o spaccare E allora uno riesce a entrare Madonna Iniziano a devastare tutto Non si capisce più niente Oddio ma che cos'è? La trappola dei topi Il suo amico è morto Ma lui è ancora vivo Finisce la squadra nemica E pam Quattro kill a casa Easy Easy Ecco un'altra clip di chi usa il coach Tpfi nello shop Guarda qua vedi No questo si è doppato te lo dico io Questo sono io Questo sono io che do Ti è doppato L'ho registrata proprio prima Ah si proprio prima Si si Ah non c'è scritto il tuo nome Eh no ma ho cambiato il nome perché ho perso una sfida Ah ho capito Questa è sulle varie stagioni di Fortnite Vedi come cambia la mappa nel corso del tempo Raga like se vi ricordate anche voi come era la vostra Come erano queste stagioni E scrivetemi qual è la vostra stagione preferita nei commenti Perché Oh Crazy è la tua canzone Eh si Ma no quella è la tarantella siciliana Eh si è chiaro È la tua canzone E non è questa Questa non è Ah no Eh questo piange per la vecchia mappa No Eh like se anche a voi manca la vecchia mappa Mamma mia bellissima fra Questo è uno che prende in giro e dice Ah la ghoul tornerà nello shop E beh Guarda cosa fanno quelli che hanno la ghoul vera No vabbè Bellissima fra E lo risegue Fra geniale Attenzione Il robot senza un braccio Questa l'ho fatta io Eh ti giuro Non era così originariamente L'ho giunto io il pezzo Serio? Sì sì Oh no Un nabbo Un nabbo Allora c'è una renegade trader Che gli lascia tutta la roba No vabbè E lui in realtà non era un nabbo Era un fake No no Sad story di chi l'ha fatto Questo pesca? Cosa pesca? Attenzione Oh Pesce in faccia Pesce in faccia Pesce in faccia Questo lancia una granata Scende E muore Easy Easy Perfect time Bellissima kill Oh questa è la nuova mappa Attenzione Gravity Attenzione Questo scende Raso terra What? Oh 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 Spera Ma che? Ma Ok Vabbè Wow Hit or miss Guarda Senti che scanta la canzone Con i vari nomi What? Ma tu ti rendi conto di quanto tempo ci ha messo questo per mettere tutti i suoi amici con quel nome lì? Ma ma stai scherzando bro Un altro che usa il coach of tpfi guarda No vabbè no vabbè fra il glitch iniziale Vecchio lo vedi? Fra rimane così? Sì Sara Ormai non si può più fare E a dir dura vince il fight Cosa? Bro Tira una cecchinata alla banana e Cosa? Gli passa così Eh sì Questo è proprio un headshot È proprio un headshot Sì 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 Bello Bello Bellissimo Bellissimo PS4 PC Xbox Che vanno a braccetto No Manca la switch però Manca la switch No Quelli da switch niente Commentate se siete da switch raga Sad story bro Ah questo sono io Ah questa è la mia clip di prima Vedi col cappellino da 50 centesimi Sì è quella Vi è il cappello e fuori Non mi ricordo cosa Aiutatemi nei commenti Ahia Ancora lo so come molto Uno Uno cecchina uno E l'altro gli fa il bacino Fai i cuori Non ho capito Non ho capito Eh quell'altro gli ha fatto il bacino E poi ha disegnato i cuori Ora Guarda No Innamorati Oh attenzione Guarda questi Guarda questi Come fanno le robe super Insieme Tutto perfettamente Sincronizzato E' bellissimo Ma what Guarda che è difficile Fare una roba del genere Assolutamente Cioè tutto Perfettamente Sincronizzato Hai 10 secondi Per far l'outro Crazy Il senso L'outro del video Eh che dico Eh quello che vuoi Ah ok Se questo video Vi è piaciuto Mi raccomando Un like E codice OctiPFI Nello shop Detto questo Signori Mi raccomando Raggiungiamo i 15.000 like Per un prossimo episodio E Opti E un grande E un grande